Allora sono in diretta oggi per ricordare una grande artista e una nostra amica, Daria Nicolodi. Lei scriveva molto e pubblicava molto su Twitter, ma nelle ultime settimane non pubblicava più. Io inizio da pensare che c'era qualcosa che non andava, proprio perché non pubblicava più. Lei era sempre presente su Twitter, sempre molto carina, con tutti. Cosa mancherà di Daria? Mancherà quello che lei ci diceva, oltre che postava. Qualche giorno prima di non pubblicare più su Twitter, c'eravamo scambiati un ti voglio bene. Io gli avevo detto a nome di Ordeore che gli volevamo bene, lei ci aveva detto che ci voleva bene. E dopo qualche giorno lei non ha più pubblicato su Twitter. Scusate, sono molto emozionata, perché oltre ad essere una mia musa, Daria Nicolodi, era una grande artista, una persona elegante, era una persona umile e, ripeto, una grande artista. Quindi oggi sono molto provata, ma nonostante tutto non riesco a dire addio Daria, ma dirò ciao Daria. Perché una grande artista, come si dice sempre, spesso, anche quasi fastidiosamente, una grande artista non muore mai. Quindi noi di Ordeore d'Orrore la ricordiamo come grande artista, ma come grande amica. Perché, ripeto, è poche settimane, pochi giorni prima di non pubblicare più su Twitter, che era il suo canale preferito, diceva sempre che Facebook non le piaceva. Ci aveva detto che ci voleva tanto bene e questa è la cosa che mi porterò per sempre di lei. Cercheremo di ricordarla al meglio con delle dirette che faremo sia questa sera, ma una diretta che faremo tutta per lei. Della sua filmografia, Inferno, Profondo Rosso, Fenomena, anche a film che non erano firmati dal suo ex compagno Dario Argento. E quindi faremo quello che credo che lei anche forse potrebbe dargli anche un po' fastidio, ma noi la omaggeremo comunque. Ciao Daria, ciao grande artista, ciao amica nostra.